L'ex senatore Benedetto Della Vedova è stato eletto segretario di Più Europa al termine del primo congresso del partito, terminato domenica pomeriggio. Correva contro Marco Cappato, ex segretario dei Radicali, e Alessandro Fusacchia. Adesso il suo obiettivo è preparare la campagna per le europee il prossimo 26 maggio, cercando di risvegliare in Italia un po' di simpatia verso l'Unione Europea. Posso concludere questo congresso di fondazione di Più Europa con la proclamazione di Benedetto Della Vedova a segretario di Più Europa con 1.278 voti pari al 55,7% delle preferenze e chiedo a Benedetto di venire a svolgere il suo discorso.